Siamo con Olivo Fancello, presidente della Sagra del Bisate di Cintello di Teglio Veneto. Ecco, siamo al via della nuova manifestazione della Sagra, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Ecco, partirà dal giorno 28, con una commedia, adesso lei ci spiegherà bene, fino al 14 luglio. Ecco, questa è la prima intervista, diciamo in generale cosa farete e poi dopo ci vediamo magari nel specifico altre volte. Sì, cominciamo con il giorno 28 che abbiamo un teatro, diciamo, con la colla di concordia sagitaria, che sarebbe il rosario sulla stalla. Quindi è una bella commedia, quindi tutti chiedono se la fate o no e loro sono già conosciuti abbastanza e quindi il primo giorno è quello lì. Poi cominciamo con la sagra, diciamo, col sabato, con l'anguilla, sabato e domenica, l'anguilla, i calamari, tutto quello che è ancora. Ecco, ricordiamo che il bisate, diciamo, l'anguilla, verrà fatta solo il sabato e la domenica. Sì, ricordo che il sabato e domenica facciamo l'anguilla perché il venerdì non c'è nessuno che venga a mangiare. Sì, sì, per poca roba, sennò tocca buttarla via, perché noi vogliamo roba fresca. Ricordiamo che c'è anche una serata della solidarietà. Sì, abbiamo anche la serata solidarietà, adesso non abbiamo deciso con la giornata, comunque, come tutti gli anni, la solidarietà. Quest'anno all'interno della sagra del bisate c'è anche un progetto, un progetto presentato anche alla regione Beneto, in questo caso, dove ci sarà anche un convegno importantissimo sulla situazione ambientale del nostro territorio, con professori universitari e anche presentanti delle istituzioni. Una cosa nuova, ma importante anche per una sagra che vive in un territorio. Sì, una cosa nuova perché abbiamo detto, facciamo anche questa cosa qua, perché è giustamente che questo convegno qua è ancora importantissimo. Speriamo che la gente venga a vedere e sentire, perché abbiamo gli universitari di Udine, poi abbiamo la regione Veneto, la regione Friuli, poi abbiamo il consorzio di Bonifica, quindi viene specificato tutto, insomma, è un convegno che è interessante, insomma. E quest'anno ho detto, a me lo facciamo questo, sennò mangiare bene e basta, non vale bene. Ecco, ricordiamo che poi questo convegno avrà fatto dei DVD, che poi chi vorrà acquistarli. Sì, quindi speriamo che venga la gente a sentire, perché è una cosa importantissima. Anche gli universitari qua di Udine sono contentissimi, perché è una cosa rara, diciamo, in giro. E noi siamo uno dei primi che facciamo questa scoperta, diciamo. Non solo anguilla, non solo bisatto, diciamo, ma anche cultura. Calamari, anche la cultura, per prima, ancora la cultura e poi anche il mangiare. Perché vedo che in giro, anche domenica, ero lì a Pradipozzo, ho trovato gente, quando cominciamo questa saga di bisatto, la fate quest'anno? Certamente la facciamo, no? Tanto quest'anno, l'anno prossimo vedremo, insomma. No, facciamo anche l'anno prossimo, perché la nostra anguilla ormai è nel coro, diciamo. Ecco, intanto grazie e poi noi ci vediamo. Poi abbiamo diversi, quelli che vengono a suonare, abbiamo dei complessi quest'anno, quindi abbiamo cercato... Insomma, non ci facciamo mancare niente. No, dai, almeno ci te lo si, dopo vediamo, dai.